Tu sei figlia a me, vedi di stare attento, tu non sei come lui. Tu sei andato, hai conosciuto altri mondi, è quello che devi sempre che voglio aiutare. Che c'è? Io lo voglio incontrare, Oreste è come me. Lei mi deve guardare come una delle sue ragazze. Possono fare altre scelte, ma non potranno mai tradirsi l'uno con l'altro. Tu ti illudi, i cuori si richiudono col tempo. No, i nostri no. No, i nostri no, i nostri no.